Lorenzo che ci prepara e ci racconta quali sono i nostri ingredienti. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Venturelli, lo chef del ristorante La Porta e oggi vi ho proposto questo piatto che sono i passatelli, abbiamo preso ispirazione dall'Artusi, la ricetta numero 20. Quando dico ispirazione è perché noi siamo molto fedeli alle ricette dell'Artusi, però cerchiamo sempre di migliorarlo con la contemporaneità, con ovviamente di cottura o addirittura togliendo quello che noi pensiamo non sia più necessario, perché ovviamente come si mangiava una volta oggi non è più necessario, perché magari una volta dobbiamo andare a coltivare i campi, a fare dei sforzi fisici maggiori, invece oggi si guardi più alle proprietà nutritive dei nostri piatti. In questo esempio abbiamo i passatelli che nella ricetta originale hanno il midollo di bue come ingrediente principale e noi abbiamo deciso di toglierlo. Ok, leggiamo gli ingredienti donato che così almeno vi faccio vedere. Ecco, passatelli con carciofi e aglio nero di vogliera, pan grattato grammi 100, parmigiano grattato grammi 40, uova grandi numero 2, odore di noce moscata e scorsa di limone, farina e acqua, carciofi circa 5 sui 700 grammi, 50 grammi di scalogno, olio extravergine da oliva, aglio uno spicchio, sale fino quanto basta, pepe nero quanto basta, spicchi aglio nero 6, 100 grammi d'acqua e 30 grammi di olio.